by barbara di castro a novembre 14 2017 grande fratello vip cecilia rodriguez appena esco vado da francesco a taranto cecilia rodriguez attuale inquilina del grande fratello vip confida la sua coinquilina giulia by giuseppe ino a novembre 14 2017 la scena dello scandalo risolta velocemente dal programma ma è davvero andata così ieri sera nel corso della diretta del grande fratello vip ilary blasi by giuseppe ino a novembre 14 2017 i rodriguez cominciano a perdere un pezzo gli ex di maria vanno avanti tutti i programmi mediaset ormai si reggono su quelli di maria de